Le mie vere presenze sono le giornaliste che fanno il mio mestiere in dei posti più complicati. È sicuramente Virginia Woolf. Natalia Ginzburg. È stata Virgilio. Bocumil Rabal. L'Armadillo. Stephen King. Thomas Holden. Beppe Fenoglio. Mr. Bonnigan. Thomas Bernard. William Finnegan. Orlando di Virginia Woolf. Mio padre. Fernando Pessoa. Poi il rompipalle di Thomas Bernard. È stata la storia di Elze Morante. Clio Makeup ad Argent Amico. Sono stati gli alberi soprattutto. Svetlana Alexievich è più di una vera presenza. E Deleuze. Elvira Banotti. Michele Mari. È quella di Franco Batteato. La di Tintoretto. Piero Angela. Omero. P.G. Wadaus. Graham Greene. Le Carré. John Fante. Cesare Pavese. Questo sicuramente non perché sono a Torino. C. iz맛